Capitolo quattordicesimo La rue du Dix-de-Sambre, con le sue case bianche e le ultime impalcature di qualche fabbricato in ritardo, si stendeva nella sua novità sotto un limpido sole di febbraio. Le carrozze passavano trionfalmente in mezzo a quella striscia di luce che tagliava l'ombra umida del vecchio quartiere di Saint-Roch, e tra rue de la Michaudière e Rouchoisseul c'era una calca eccitata da un mese di pubblicità, con gli occhi alzati davanti alla facciata monumentale del Paradiso delle Signore, che doveva essere inaugurata quel lunedì stesso in occasione della grande esposizione della biancheria. La facciata si alzava nella sua gaia freschezza, a vari colori con dorature, e ben annunciava il chiasso del commercio interno, attirando gli occhi come un'immensa vetrina, splendida dei colori più vivaci. A pian terreno, per non far sfigurare le stoffe delle vetrine, gli ornamenti erano sobri, uno zoccolo di marmo verde, i pilastri d'angolo ed appoggio coperti di marmo nero rallegrato da cartigli dorati, e il resto tutto a cristalli che pareva aprissero la profondità delle gallerie e delle sale alla luce piena della via. Ma più i piani salivano, più le tinte erano chiare e splendenti, il cornicione del pian terreno era a mosaici, una ghirlanda di fiori rossi e azzurri alternati con quadrati di marmo dove erano iscritti i nomi delle merci, intorno intorno, cingendo il negozio. Poi il basamento del primo piano era a mattoni smaltati e sorreggeva i cristalli di finestroni fino alla cornice fatta con gli scudi dorati delle città di Francia e con ornamenti di terracotta, lo smalto dei quali ripeteva i colori chiari del basamento. Finalmente, in cima, la facciata esultava nei mosaici e nelle porcellane, con tinte più calde. Lo zinco delle grondaie era lavorato e dorato, e un popolo di statue, le grandi città industriali e commerciali levavano nel cielo i loro sottili profili. I curiosi si stupivano principalmente della porta di mezzo, alta come un arco di trionfo, decorata con una profusione di mosaici, porcellane e terre cotte, e sormontata da un gruppo allegorico di cui raggiavano le dorature nuove, la donna ornata e baciata da una folla volante e ridente di amorini. Verso le due, le guardie dovevano far circolare la gente ferma e sorvegliare la fila delle carrozze. Il palazzo era costruito. Il tempio alla follia della moda, terminato. Dominava e copriva un intero quartiere con la sua ombra. La piaga lasciatagli nel fianco dalla rovina della casaccia di Burrà era già così ben guarita che si sarebbe in vano cercato il suo antico posto. Le quattro facciate correvano lungo le quattro vie, senza nessuna interruzione nel loro superbo isolamento, e pareva che il paradiso, dopo essersi tanto ingrandito, vergognandosi e avendo orrore del quartiere nero dove era nato modestamente e che aveva poi assassinato, gli avesse voltato le spalle lasciando dietro a sé il fango delle vie strette e presentando la sua faccia di borghese arricchito alla strada piena di sole e di chiasso della Nuova Parigi. Si era, come lo mostravano le incisioni delle pubblicità, ingrassato allo stesso modo dell'orco delle favole, che con le spalle rompe le nuvole. In quelle incisioni, la rue de l'Eau d'Isdesambre e quella della Michaudière Chasseur, piene di figurine nere, si allargavano smisuratamente come per fare il passaggio dei clienti del mondo intero. Poi, sopra, si vedevano i fabbricati a volo d'uccello, smisuratamente esagerati, quei tetti che indicavano le gallerie e le corti a cristalli sotto i quali si indovinavano le sale, tutto l'infinito di quel lago di vetro e di zinco luccicante al sole. Più in su, Parigi si stendeva, rimpicciolita, quasi divorata dal mostro. Le case, piccine come capanne l'intorno, si sparpagliavano poi in una polvere di camini indistinti. I monumenti si vedevano appena. A sinistra due linee per Notre-Dame, a destra un accento circonflesso per l'Isinvalide, in fondo il Pantheon, vergognoso e sperso, più piccolo di una lenticchia. L'orizzonte non era più che una polvere di segni fino all'alture di Chantillon e alla vasta campagna. Fin dalla mattina la folla cresceva. Nessun magazzino aveva messo sotto sopra la città con un tal chiasso di pubblicità. Il Paradiso non spendeva ora meno di 600.000 franchi l'anno tra annunci, affissioni, richiami d'ogni sorta. I cataloghi mandati via non erano meno di 400.000. Ci volevano più di 100.000 franchi di stoffe per tagliuzzarli in campioni. Giornali, muri, orecchie erano pieni del Paradiso, come una mostruosa trombetta che senza mai posa soffiasse i quattro angoli della terra e il frastuono delle grandi esposizioni. La facciata sotto la quale si faceva tanta ressa diventava la pubblicità vivente. Col suo lusso variopinto e dorato da bazar, le sue vetrine larghe in modo da potervisi esporre un intero poema degli abiti femminili, le sue insegne che si leggevano dappertutto, dipinte, incise, intagliate, dal marmo del pian terreno fino alla lamiera del tetto che portava il nome del magazzino, scritto su bande ruole con lettere che mostravano l'azzurro del cielo. Per festeggiare l'inaugurazione erano stati aggiunti trofei e bandiere. Tutti i piani avevano standardi con le armi delle principali città di Francia e, in cima, le bandiere inalberate dei popoli stranieri si svolgevano al vento. Per ultimo, giù da passo, l'esposizione della biancheria prendeva in fondo alle vetrine un'intensità di toni che accecava. Soltanto biancheria. Un corredo completo e una montagna di lenzuola a sinistra, tende spiegate e piramidi di fazzoletti a destra stancavano gli occhi. E, tra la roba pendente dalla porta, tele, mussoline, ghinee, fioccanti giù come neve, c'erano dritti i manichini a misura reale. Una sposina e una signora vestita da ballo, tutte e due coperte di stoffe nere, trina e seta, sorridendo dai loro volti dipinti. Un gruppo di curiosi si rinnovava di continuo ed un desiderio saliva dalla meraviglia della gente. La curiosità era eccitata ancor più da una disgrazia di cui tutta Parigi parlava. L'incendio di Eau quatre saisons, il grande magazzino aperto da Boutemont, vicino all'Opera, neanche tre settimane prima. I giornali erano pieni di particolari sul fuoco nato per un'esplosione di gas nella nottata. La fuga spaventata delle ragazze in camicia da notte, l'eroismo di Boutemont che ne aveva salvate cinque sulle spalle. Del resto le perdite grandissime erano assicurate. E il pubblico cominciava a fare pallucce, dicendo che era una stupenda pubblicità anche quella. Ma intanto tutti correvano al paradiso per le voci sparse, chiamati incessantemente da quei bazar che avevano preso tanta importanza nella vita pubblica. Aveva tutte le fortune quel mure. Parigi salutava la sua stella e accorreva a vederlo in piedi, dato che le fiamme pensavano ora a liberarlo dalla concorrenza. E già si contavano i guadagni della stagione, valutando quanta più gente sarebbe andata da lui perché il magazzino rivale aveva dovuto chiudere. Per un po', Muret, turbato dal vedersi in nemica una donna, quella desforge cui doveva per una parte la sua fortuna, si era sentito inquieto e lo preoccupava anche il barone che si divertiva a impiegare i soldi in tutte e due gli affari. Ma di più, si arrabbiava per non aver avuto una bella idea come quella di Boutemont. Quel gaudente non si era fatto benedire i magazzini dal curato della Madeleine seguito da tutto il suo clero? Una cerimonia meravigliosa, una pompa religiosa che era andata dalle sete ai guanti. Dio caduto tra le mutande da donna e le sottovesti. Ciò non aveva impedito al tetto di bruciare, ma valeva un milione di annunci tanto il colpo era maestro. Muret, da quel momento, pensò di far venire l'arcivescovo. Suonavano le tre all'orologio che era sulla porta. Nella folla dalle ore pomeridiane, quasi centomila compratori si pigiavano per le gallerie e per le sale. Fuori, le carrozze occupavano da un capo all'altro rue du dis desambre e, dall'altra parte dell'opera, un'altra densa fila stava nella strada cieca da cui doveva poi nascere il nuovo viale. Semplici vetture di piazza erano frammiste alle carrozze private. I cocchieri aspettavano tra le ruote, i cavalli nitrivano, scuotendo i morsi luccicanti al sole. Le file si formavano di continuo tra le chiamate dei garzoni e il serrarsi delle bestie che si muovevano da sé, ed altre carrozze venivano continuamente a porsi in riga. I pedoni passavano correndo spaventati da una parte all'altra e i marciapiedi formicolavano di gente nella via larga e dritta che si stendeva e si perdeva lontana. Tra le case bianche saliva il rumore. Il fiume umano passava sotto l'anima diffusa di Parigi, un soffio dolce e immenso di cui si sentiva la gigantesca carezza. Davanti a una vetrina, la Debove, accompagnata dalla sua blanche, guardava con la guibal dei vestiti bellefatti. Guardate! Guardate quei vestiti di tela 19 franchi 75! Nelle loro scatole quadrate i vestiti, legati con un nastrino, erano ripiegati in modo da mostrare soltanto le guarnizioni, ricamate di rosso e celeste, e nell'angolo di ogni scatola c'era un'incisione che mostrava il vestito come era fatto, portato da una signora dall'aria principesca. «Dio mio! È roba che vale poco!» mormorò la guibal. «Si rompono subito, basta toccarli!» Dal momento che Debove era inchiodato su una poltrona dalla gotta, erano diventate amiche intime. La moglie sopportava l'amante, piacendole di più che la cosa accadesse lì in casa, così almeno ci guadagnava qualche soldo che il marito si lasciava rubare, avendo bisogno anche lui di un po' di tolleranza. «Entriamo dunque!» disse la guibal. «Bisogna vederla all'esposizione!» «Vostro genero non vi ha dato un appuntamento là dentro?» La Debove non rispose, tutta assorta sulla fila delle carrozze, che ad una ad una si aprivano, uscendo sempre nuovi clienti. «Sì!» rispose Blanche. «Paul ci deve venire a prendere verso le quattro nella sala di lettura quando esce dal ministero». Erano sposati da un mese e Valagnos, dopo un congedo di tre settimane passate nel mezzogiorno della Francia, era tornato al suo ufficio. Blanche era già grossa e grassa come la mamma, o poco meno. «Guarda la Desforce laggiù!» disse la contessa, guardando una carrozza che si fermava. «Davvero?» domandò la guibal. «Dopo tutte queste storie! Deve piangere ancora l'incendio di Ocas-Saison?» Era proprio Henriette. Le vide e si fece avanti con aria spigliata, nascondendo la sua disfatta sotto la mondana disinvoltura. «Dio mio sì! Ho voluto vedere da me con i miei occhi! È meglio, non è vero? Oh! Con i Mosse Mure siamo sempre buoni amici, per quanto dicano che è furibondo perché ho preso interesse al magazzino rivale. Io gli perdono tutto, eccetto una cosa. D'aver fatto quel matrimonio, ve ne ricordate? Tra quel tal Giosef e la mia protetta, Mademoiselle de Fontenay. Come? Si sono davvero sposati?» interruppe la Debove. «Che orrore!» «Sì, e soltanto per offendere noi. Lo conosco io. Ha voluto dire che le nostre signorine non sono buone che per i suoi garzoni». Si riscaldava. E tutte e quattro restavano sul marciapiede tra le spinte. Ma poco a poco la folla le spingeva e, abbandonandosi alla corrente, entrarono come portate, quasi senza accorgersene, discorrendo a voce più alta per capirsi. Si domandavano ora notizie della Martì. Il povero Monsieur Martì, dicevano dopo scene violenti in casa, era impazzito, preso dal delirio delle ricchezze, attingeva a piene mani ai tesori della terra, vuotava le maniere d'oro, caricava di carretti di diamanti e pietre preziose. «Povero disgraziato!» disse la Ghibal. «Lui, che era sempre vestito così male, tanto umile a forza di dar lezione, è la moglie!» «Divoro uno zio», rispose Riet. «Un bravo vecchione di zio che, rimasto vedovo, è andato a stare con lei. Ma la troveremo di sicuro. Deve essere venuta». Rimasero immobili dalla sorpresa. Davanti a loro si stendevano i magazzini, i più vasti del mondo, dicevano gli annunci. La grande galleria di mezzo correva ormai da un capo all'altro, dando il Rue du Dix-de-Sambre e il Rue Neve-Saint-Agostin, e a destra e a sinistra, come le navate d'una chiesa, la galleria Monsigny e la galleria Michaudière, più strette, si stendevano anch'esse lungo le due vie senza interruzione. Di tanto in tanto c'erano i crocicchi allargati in sale, in mezzo all'ossatura metallica dei ponti e delle scale. L'ordine interno era stato rovesciato. Le occasioni erano su Rue du Dix-de-Sambre, la seta in mezzo, i guanti nella sala Sant'Agostin in fondo e dal nuovo ingresso principale, alzando gli occhi, si vedevano sempre i letti, portati da una parte all'altra del secondo piano. I reparti erano diventati niente meno che cinquanta. Alcuni si inauguravano quel giorno, altri, fattisi troppo importanti, avevano dovuto essere sdoppiati per aiutare la vendita, e in quel continuo accrescersi degli affari, gli impiegati con la nuova stagione erano saliti al numero di 3045. Le signore, più che da tutto il resto, erano sorprese dal prodigioso spettacolo della grande esposizione della biancheria. Intorno a loro c'era da prima l'atrio, tutto a cristalli, col pavimento a mosaico, dove le mostre a prezzi bassi trattenevano la folla avida. Si aprivano quindi le gallerie, piene di luci accecante, come deserti di neve, come ghiacciai scintillanti al sole. Il bianco delle vetrine esterne si ravvivava, per l'immensa fila, ardendo da un capo all'altro con le fiamme bianche di un incendio divoratore. Null'altro che bianco, tutto il bianco di tutti i reparti, un'orgia di bianco, un astro bianco che da principio faceva male agli occhi, in quali in quel candore unico non potevano distinguere i particolari. Presto, peraltro, ci si abituavano. A sinistra, la galleria Monsigny protendeva i suoi monti di tele e cotoni, le rocce bianche dei lenzuoli, degli asciugamani, dei fazzoletti. E la galleria misiodiera, a destra, occupata dalla merceria, dalla maglieria e dalle lane, esponeva dei cumuli bianchi di bottoni di madreperla, una grande decorazione fatta tutta di calze bianche, una sala intera coperta di lana bianca, attraversata in lontananza da un raggio di sole. Ma, principalmente, splendeva la galleria di mezzo, coi nastri e le cravate, i guanti e le sete. I bianchi non si vedevano più sotto il bianco delle sete, dei nastri, dei guanti e delle cravate. Attorno alle colonnette di ferro si alzavano sbuffi di mussolina bianca, stretti di tanto in tanto da pezzuole bianche. Le scale erano addobbate di stoffe bianche, di piquet e cambrì, che alternativamente salivano lungo le ringhiere, circondavano le sale fino al secondo piano, e tutto quel bianco prendeva ali e si alzava e si sperdeva come una fuga dei cigni. Poi ricadeva dalle volte come piuma, come neve a larghe falde. Coperte bianche, piumini bianchi, penzolavano come i parati d'una chiesa. Letrine volavano da una parte all'altra come sorreggessero sciami di farfalle bianche immobili. I merletti fermevano dappertutto, ondeggiavano come ragnateli in un cielo stellato, riempivano l'aria del loro alito bianco. E, la meraviglia, l'altare di quella religione del bianco era sopra il reparto delle sete, nella grande sala una tenda fatta di cortine bianche che scendevano dall'invetriata. Le mussoline, le varietà di tulle, lettrine d'arte scendevano a leggere ondate mentre i veli ricamati ricchissimi e le sete orientali a pagliuzze d'argento facevano da sfonda quell'immensa decorazione che aveva insieme del tabernacolo e dell'alcova. Pareva un gran letto bianco che nella sua enormità virginale aspettasse, come nelle leggende, la principessa bianca, quella che doveva venire un giorno, onnipossente, col velo bianco delle spose. «Oh, è una cosa straordinaria!» ripetevano le signore, «inaudita!» Non si stancavano nemmeno di quella sinfonia del bianco cantata dalle stoffe di tutto il magazzino. Moreno non aveva avuto ancora un'idea così vasta. Era il genio dell'arte delle sue esposizioni. Tra cui candori, nel disordine apparente dei tessuti, caduti come per caso fuori dalle scatole, c'era una frase armonica. Il bianco, seguito e svolto in tutti i suoi toni, che nasceva, cresceva, si allargava con la strumentazione complicata di una fuga di autore classico che, col continuo svolgimento, rapisce le anime in un volo sempre più largo. Sempre il bianco. E non mai lo stesso bianco. Tutti i bianchi gli uni sugli altri, contrapponendosi, compiendosi, giungendo all'ultimo splendore della luce. Dai bianchi scuri delle ghinee e delle tele, dai bianchi sordi delle flanelle e delle lenzuola. Si passava ai velluti, alle sete, ai rasi, sempre salendo. Il bianco a poco a poco si accendeva e finiva quasi in fiammelle dove c'erano le pieghe. Poi volava nella trasparenza delle tende, diveniva luce libera nelle mussoline, nei merletti, nelle trine, soprattutto nei veli così leggeri che erano come la nota ultima esperdentesi, mentre l'argento delle sete orientali cantava più acuto in fondo all'immensa alcova. I magazzini intanto vivevano. La gente si affollava agli ascensori, si urtava nella stanza delle bibite e nella sala di lettura. Un popolo intero viaggiava per quegli spazi coperti di neve. E la folla pareva nera. Sembravano i pattinatori di un lago della Polonia in dicembre. Al pianterreno c'era una calca ondeggiante dove non si distinguevano che i volti delicati e pieni di ammirazione delle donne. Lungo le scale, sui ponti, si vedevano salire e scendere infinite figurine come sparse tra picchi coperti dalla neve. Un calore di serra soffocante faceva meraviglia di fronte a quelle candide montagne. Il rumore delle voci pareva quello enorme di un fiume straripato. Nell'alto, l'oro profuso, i vetri inniellati d'oro e i rosoni d'oro parevano raggi di sole splendenti sulle alpi della grande esposizione di Bianco. «Andiamo!» disse la Debove. «Bisogna pure muoversi! Non si può mica restare qui!» Da quando era entrata, Jouvet, dritto presso la porta, non le levava gli occhi di dosso. Lei si voltò e i loro sguardi si incontrarono. Poi, quando lei si incamminò, Jouvet la lasciò andare un po' avanti e la seguì da lontano, facendo finta di nulla. «Toh!» disse la Ghibal, fermandosi un'altra volta davanti alla prima cassa che trovò in mezzo alle spinte. «Questa sì che è un'idea! Gentile! Le viole!» Parlava del nuovo premio del paradiso, un'idea di mure di cui faceva parlare tutti i giornali. Comprava a Nizza migliaia di mazzolini di viole e li distribuiva ad ogni cliente che comprasse qualcosa. Accanto a tutte le casse, Garzoni Livrea erano incaricati della distribuzione, sorvegliati da un ispettore, e a poco a poco la clientela si trovava infiorata. I magazzini si riempivano d'allegria, tutte le donne portavano attorno un forte profumo di fiori. «Sì!» mormolò la Desforges, con voce da cui traspariva la gelosia. «L'idea è buona!» Ma, mentre stavano per allontanarsi, sentirono due commessi che scherzavano su quelle viole. Uno magro ed alto si meravigliava. Era proprio vero, dunque, che il padrone sposava la direttrice dei vestitini? E un altro, un grassone, rispondeva che non sapeva, ma che i fiori, a ogni modo, erano belli e pronti. «Come?» disse la Debove. «Mossio Muret prende moglie!» «Lo sanno tutti a quest'ora», rispose Henriette che faceva l'indifferente. «Una volta o l'altra, si sa, ci si casca tutti». La contessa aveva dato un'occhiata furbesca alla sua nuova amica. Ora sì che capivano perché la Desforges era venuta al paradiso. Per quanto fosse irrotta, cedeva, senza dubbio, al bisogno invincibile di vedere e di soffrire. «Resto con voi», disse la Ghibal, presa da curiosità. «Si ritroverà la Debove nella sala di lettura». «Va bene», rispose questa. «Io devo andare al primo piano. Andiamo, Blanche». E se ne andò, seguita dalla figlia, mentre Jouvet, sempre attento a quello che lei faceva, salì per un'altra scala accanto perché non se ne accorgesse. Le altre due si persero nella folla compatta del pian terreno. Tutti i reparti, tra la confusione della vendita, non discorrevano d'altro che degli amori del padrone. L'avventura che da mesi mandava in sollucchero i commessi per la lunga resistenza di Denise, è raggiunta da un momento all'altro a una crisi. Il giorno precedente si era risaputo che la ragazza se ne andava dal paradiso, per quanto Morella scongiurasse di restare. Diceva che aveva un gran bisogno di riposo. E tutti dicevano la loro, andrà o non andrà via. Da reparto a reparto correvano scommesse di cinque franchi per la domenica successiva. I maligni arrischiavano una colazione sulla carta del matrimonio. Gli altri, quelli che credevano alla partenza, non avevano ragioni meno buone. La ragazza aveva, è vero, la forza di una donna adorata che dice di no, ma il padrone, dall'altro canto, era ricco, felice nella sua vedovanza, orgoglioso, e quell'ultima esigenza gli poteva far cambiare in odio l'amore. Gli uni e gli altri erano d'accordo su questo, che la piccola aveva saputo condurre l'affare con la sapienza di una furba consumata e che giocava ora l'ultima partita intimando «sposami o me ne vado». Eppure Denise non ci pensava affatto. Non aveva avuto mai pensieri nascosti. Se ne andava appunto per quei giudizi che la perseguitavano. Quando mai aveva voluto quel che le attribuivano? S'era mai mostrata furba, civetta, ambiziosa? Era arrivata semplicemente e si meravigliava più di tutti di sentirsi amata così. Ed ora, come e perché vedevano un tiro da volpe nella sua risoluzione di andarsene dal paradiso? Era tanto naturale, invece. Non ne poteva più, tra le chiacchiere che rinascevano di continuo, tra le ardenti preghiere di Murray, tra i combattimenti che doveva sostenere contro se stessa. Preferiva andarsene, temendo di cedere una volta o l'altra e di avere poi quel rimpianto per tutta la vita. Era una tattica sapiente? Non lo sapeva né lo voleva sapere. Ma si domandava, disperata, come potesse fare per non sembrare una che vuole a ogni costo marito. Il matrimonio, anzi, la irritava ed era pronta a dire di no, sempre di no, anche se lui avesse spinto la sua pazzia fino a quel punto. Lei sola doveva soffrire. Il pensiero di separarsi da lui la faceva piangere, ma col suo gran cuore diceva a se stessa che bisognava facesse così e che non avrebbe avuto più un momento di pace e di gioia se avesse fatto diversamente. Quando Murray ricevette le sue dimissioni. Rimase muto e quasi freddo nello sforzo che faceva per frenarsi. Poi dichiarò seccamente che le dava otto giorni perché ci pensasse bene prima di fare tanta e tale sciocchezza. Quando, passati gli otto giorni, lei tornò a ripetere che se ne voleva ad ogni costo andare dopo la grande esposizione, egli non si infuriò nemmeno allora e volle parlarle sul serio. Dava un calcio alla fortuna. Dove voleva trovare il posto che aveva ora? Aveva qualcosa in vista? Era pronto a darle quanto di meglio sperasse ottenere altrove e, avendo Denise risposto che non aveva nemmeno cercato e che si voleva prima riposare per un mese a Valogne, col denaro che aveva messo da parte, lui le chiese perché non potesse tornare al paradiso, se era proprio la salute che l'obbligava a riposarsi un po'. Lei non sapeva che rispondere, torturata da quelle domande. Allora More pensò che andasse a rincontrare un amante, forse un marito, non gli aveva confessato una sera che amava. Da quel momento portava nel cuore, ficcatavi come un coltello, quella confessione strappatale in un'ora di turbamento. Se quell'uomo la sposava, lei lasciava andare tutto per stare con lui. La sua ostinazione era così spiegata, era finita per lui. Aggiunse soltanto con la sua voce gelida che non la tratteneva più, dato che non gli poteva dire le vere ragioni della sua partenza. Questa conversazione, dura, pacata, la commosse più che le furie di cui aveva avuto paura. Per tutta la settimana che Denise restò nel magazzino, More fu sempre pallido e severo. Quando attraversava i reparti, fingeva di non vederla. Non si era mai mostrato così indifferente, così assorto nel lavoro, e le scommesse ricominciarono, ma soltanto i coraggiosi osavano rischiare una colazione sul matrimonio. Sotto quella freddezza, tanto poco naturale in lui, Morena scondeva intanto una spaventosa battaglia di indecisione e di dolore. Il sangue gli ribolliva, vedeva tutto rosso a volte. Egli passava per la testa di prendere Denise e stringerla e tenerla con sé, soffocando le sue grida. Poi volle ragionare e cercò un modo pratico per impedirle di andarsene, ma sbatteva sempre contro la sua impotenza, con l'odio della sua forza e del suo denaro, che gli erano inutili. E un pensiero cresceva in mezzo ai pazzi progetti e, per quanto lui ripugnasse, gli si imponeva poco a poco. Dopo la morte dell'Edouane, aveva fatto proponimento di non risposarsi, dovendo a una donna l'origine della sua fortuna e, volendola ormai, accrescere con le donne. Aveva, come Bordoncle, la superstizione che il capo di un gran magazzino deve essere celibe, se vuol mantenere intera la sua maschile potenza sui desideri del suo popolo di clienti. Una donna avrebbe mutato l'ambiente e cacciato col suo odore tutte le altre donne, e resisteva alla logica invincibile dei fatti, preferendo morire piuttosto che cedere assalito da improvvise furie contro Denise, sentendo bene che lei era la rivincita. Temendo di cadere vinto sui suoi milioni, spezzato come una paglia dall'eterno femminino, il giorno del suo matrimonio. A poco a poco, invece, si raddolciva e discuteva la sua ripugnanza. Perché aver paura? Era tanto buona, tanto giudiziosa lei, che le si poteva abbandonare senza timore. Venti volte allora ricominciava la battaglia nell'anima sua straziata. L'orgoglio irritava la piaga, ed egli finiva col perdere quel po' di cervello che gli era rimasto, e pensare che anche dopo quell'ultima sottomissione, se Denise amava un altro, avrebbe pur risposto di no. La mattina della grande esposizione non aveva ancora preso una decisione, e Denise se ne andava il giorno dopo. Quando Bordoncle entrò, secondo il solito, quel giorno, verso le tre, nello studio di Mouret lo sorprese coi gomiti sullo scrittoio, coi pugni sugli occhi, assorto tanto che lo dovette toccare su una spalla. Mouret alzò il viso bagnato di lacrime, si guardarono, e poi si tesero le mani e bruscamente se le strinsero da uomini che avevano combattuto insieme tante battaglie. Da un mese Bordoncle del resto aveva cambiato il suo piano e si inchinava davanti a Denise, anzi, sotto sotto, spingeva il padrone al matrimonio. Certo, era indotto a ciò dal timore d'essere spazzato via da una forza che ora doveva riconoscere superiore alla sua. Ma, in fondo a quel cambiamento, c'era anche il risvegliarsi di un'antica ambizione, la speranza, mano a mano sempre più grande, di scavalcare a sua volta Mouret, davanti al quale aveva dovuto per tanto tempo piegare la schiena. Si sentiva trascinato dall'aria stessa del magazzino, da tutto quel contrasto per l'esistenza che gli riscaldava, a forza di vittime, la vendita intorno. Era come preso dal moto della macchina, dall'appetito degli altri, dalla voracità che dappertutto precipitava i magri allo sterminio dei grassi. Soltanto una specie di terrore religioso, la religione della fortuna, l'aveva fino allora trattenuto dal mordere. Se il padrone si rimbambiva, se stupidamente pigliava moglie e rovinava la sua fortuna, guastando il suo incantesimo sui clienti, perché lo doveva trattenere? Era tanto facile invece raccoglierne l'eredità quando fosse belle finito tra le braccia di una donna. Fu perciò con la commozione di un addio, con la compassione di un vecchio compagno che strinse le mani a Mouret ripetendogli «via, via! Coraggio, che diavolo! Sposatela e fatela finita!» Mouret si vergognava già di quella sua debolezza. Si alzò e rispose subito «No, no! Sarebbe una stupidaggine troppo grossa! Andiamo a fare il nostro giro per i magazzini? Va bene, non è vero? La giornata sarà magnifica!» Uscirono e cominciarono la loro ispezione tra la folla. Bourdoncle gli dava di traverso delle occhiate, inquieto per quell'ultima energia, studiando le sue labbra per sorprendervi ogni minima piega di dolore. La vendita infuriava, la casa ne tremava e sussultava come un bastimento lanciato a tutto vapore. Nel reparto di Denise si affollavano le mamme con un esercito di bambini e bambine sommersi sotto i vestiti che provavano loro. Il reparto aveva messo in mostra quanta roba bianca aveva e anche lì c'era, come dappertutto, un'orgia di bianco. C'era di che vestire uno sciame di amorini freddolosi, baltoncini di panno bianco, vestitini di piquet, di nansouk, di cashmere bianco, perfino uniformi alla zuava e da marinai tutte bianche. In mezzo, per quanto ancora non fosse la stagione, erano stati messi per ornamento i vestiti da prima comunione, le scarpine di raso bianco, una fioritura leggera che pareva un mazzo enorme di innocenza e candida estasi. La burdele, davanti ai suoi bambini messi in ordine d'altezza, Madeleine Edmond Lucien, s'arrabbiava con quest'ultimo, il più piccino, perché si muoveva mentre Denise si sforzava ad infilargli una giacchetta di mussolina di lana. «Sta un po' fermo! Non sarà un po' stretta?» E, col suo sguardo limpido di donna che non si lascia imbrogliare, esaminava la stoffa, la fattura e guardava sopra e sotto le cuciture. «No, no, sta bene», aggiunse subito. «A vestirli questi piccini ci vuole una fatica. Ora vorrei un mantello per questa bambina». Denise, con tutta quella gente, aveva dovuto mettersi anche lei a vendere. Cercava il mantello, quando uscì in un'esclamazione di sorpresa. «Come? Sei tu? Che c'è?» Suo fratello Jean l'era davanti con un pacco nelle mani. Si era sposato da otto giorni e il sabato la moglie, una brunetta dal viso capriccioso e carino, aveva fatto una lunga visita al paradiso delle signore per delle compere. Gli sposi dovevano andare con Denise a Valogne. Un vero viaggio di nozze, un mese di vacanza nei ricordi del passato. «Figurati che Therese si è scordata ad un sacco di cose», rispose lui. «Bisogna cambiarne alcune e pigliarne altre. E ha mandato me, ti spiegherò io». Ma lei l'interruppe, accorgendosi di Pepe. «Toh, e tu? E il collegio?» «Come si fa?» disse Jean. «Ieri sera, di domenica. Non ho avuto il coraggio di riportarlo, lo riporterò stasera. È abbastanza questo povero ragazzo di restare chiuso a Parigi mentre noi si passeggerà laggiù». Denise, per quanto dentro soffrisse, sorrideva. Affidò la burdelea ad una ragazza e tornò da loro in un angolino del reparto dove c'era un po' di spazio. I piccini, come lei seguitava a chiamarli, erano ormai dei pezzi di giovanotti. Pepe, che non aveva che dodici anni, era già più alto di lei e più grosso, sempre zitto e vivendo di carezze, con una dolce malizia nella sua tunica di collegiale. Jean, quadrato di spalle, la superava di tutta la testa, con la sua bellezza di prima, coi capelli biondi, ondeggianti da operaio artista. Lei, rimasta sottile sottile come un uccellino, come diceva, aveva su di loro sempre la sua autorità di mamma, e li trattava da monelli di cui bisogna aver cura, riabbottonando il soprabito di Jean perché non avesse l'aria da bellimbusto e controllando che Pepe avesse il fazzoletto pulito. Quel giorno, quando vide gli occhi che faceva, lo sgridò dolcemente. «Happi un po' di giudizio, piccino mio! Tu non puoi interrompere gli studi! Nelle vacanze ti porterò con me! Vuoi qualcosa? Vuoi dei soldi, invece?» Poi si volse all'altro. «Anche tu! Non si sa che li vai a mettere per la testa! Li vai a far credere che si vada lassù per divertirci! Siate buoni, ragazzi!» Aveva dato al maggiore 4.000 franchi, la metà dei suoi risparmi, perché potesse mettere su casa. Il minore le costava caro in collegio, spendeva come prima tutto per loro, viveva per loro e per loro lavorava, essendo ormai decisa a non prendere marito. «Ecco qui», riprese Jean. «Prima di tutto, il paltoncino avana che Therese...» Ma si fermò, e Denise, volgendosi per capire perché si fosse interrotto, vide Mouret dietro di loro. Da qualche secondo la stava a guardare mentre faceva da mammina tra quei due giovanotti, sgridandoli e carezzandoli come bambini. Bourdain Clare era rimasto da parte, come se fosse assorto nella vendita, ma non perdeva di vista la scena. «Sono i vostri fratelli, non è vero?» chiese Mouret dopo un momento di silenzio. Aveva la sua voce fredda, quell'aria severa che teneva ora con lei. Denise faceva anche lei uno sforzo per non emozionarsi. Non seppe più sorridere e rispose «Sì, signore, ho dato moglie al maggiore e lei me lo manda per delle compere». Mouret seguitava a guardarli tutti e tre, poi riprese «Il minore s'è fatto grande, lo riconosco. Mi ricordo d'averlo visto una sera alle Tuglieri con voi». Lei, come se le mancasse il respiro, si chinò fingendo di accomodare la cintura a Pepe. I due fratelli sorridevano arrossendo al padrone della sorella. «Vi somigliano?» aggiunse Mouret. «Sono più belli di me!» esclamò lei. Parve che egli esaminasse i volti, ma non ne poteva più. Che bene lei voleva quei suoi fratelli? E fece due o tre passi, poi tornò indietro e le disse in un orecchio «Dopo la vendita, passate da me. Vi voglio parlare prima che ve ne andiate». Se ne andò e ricominciò la sua ispezione. Era da capo sottosopra, si arrabbiava d'averle dato quell'appuntamento. Che diavolo mai d'effetto gli aveva fatto vedere i suoi fratelli? Era pazzo se non riusciva più nemmeno a voler quel che voleva. Già, bastava che le dicesse addio. Bordoncle, che l'aveva raggiunto, pareva meno inquieto, studiandolo ancora con la coda dell'occhio. Denise era tornata dalla bordelè. «E questo mantello sta bene?» «Sì, sì, benissimo. Per oggi basta. Quanto costano questi monelli?» Allora Denise poteva ascoltare in pace Jeanne e accompagnarlo per i reparti dove da sé avrebbe perduto la strada. Si trattava, prima di tutto, d'un paltoncino Havana che Therese, dopo averci pensato meglio, voleva cambiare con un altro uguale ma bianco. E Denise prese il pacco, andò coi fratelli all'abbigliamento. Il reparto aveva esposto tutti i vestiti chiari, giacchette e mantiglie d'estate di seta leggera o lana fantasia. Ma c'era poca vendita e relativamente poca folla. Quasi tutte le ragazze erano nuove. Claire era scomparsa da un mese, secondo alcuni rapita dal marito di una cliente, secondo altri finita dove fa finire. Marguerite stava invece per andare a prendere la direzione del negozietto di Grenoble dove l'aspettava il cugino. Soltanto Madame Aurelie restava lì, immobile nella corazza rigonfia del suo vestito di seta col suo viso di imperatrice, giallo come un marmo antico. Ma la cattiva condotta di suo figlio la tormentava e si sarebbe ritirata in campagna se non fosse stato per le spese pazze di quel gozzo vigliatore che minacciava coi suoi denti terribili di mangiarsi pezzo a pezzo tutti i beni di Rigol. Era quasi la rivincita della famiglia distrutta, mentre la madre aveva ricominciato le sue scampagnate con le amiche e il padre, dal canto suo, seguitava suonare il corno. Bourdoncle, con un'aria scontenta, considerava già Madame Aurelie troppo vecchia per la vendita. Doveva presto suonare quella campana a morto che cacciasse dal paradiso la dinastia dei Lom. «Siete voi?» disse quella Denise con una grazia esagerata. «Volete che vi si... cambi il paltoncino? Subito! Ah, ecco qui i vostri fratelli! Che giovanotti sono diventati!» Orgogliosa come era, lo stesso le si sarebbe inginocchiata davanti. All'abbigliamento, come dappertutto, non si faceva che parlare della partenza di Denise e la direttrice si sentiva morire, perché contava sulla protezione della sua antica ragazza. Abbasso la voce. «Dicono che ve ne andate. È proprio vero?» «Ma sì!» Marguerite stava a sentire. Da quando era fissato il suo matrimonio, atteggiava la faccia di latte cagliato a smorfi anche più annoiate. Si avvicinò e disse «Avete ragione! Prima di tutto l'onore! Non è vero? Addio, mia cara!» Giunsero delle signore e madame Aurelì la pregò duramente di stare attenta alla vendita. Poi, vedendo che Denise pigliava il paltoncino per fare da sé la resa, non volle a nessun costo e chiamò una ragazza. Era una delle innovazioni suggerite da Denise a Mure. Delle ragazze apposta portavano la roba e così le addette alla vendita si stancavano meno. «Accompagnate la signorina!» disse la direttrice, dandole il paltoncino e volgendosi a Denise. «Per carità, pensateci bene. Noi siamo tutti disperati che ve ne vogliate andare!» Jeanne e Pepe, che aspettavano sorridenti tra quelle donne, si rimisero dietro alla sorella. Bisognava ora andare ai corredi per prendere altre quattro camicie compagna alla mezza dozzina che Therese si era comprata il sabato prima. Ma tra i banchi della biancheria si soffocava ed era sempre più difficile andare avanti. Alle sottovesti la folla era tutta sottosopra. Madame Butarelle, che questa volta era venuta col marito e la figlia, andava su e giù per le gallerie fin dalla mattina per comprare a quest'ultima, cui dava marito, il corredo. A ogni compera papà doveva dare il suo parere e non la finivano più. Finalmente si erano fermati alla biancheria e, mentre la signorina era tutta assorta su certe mutande, la mamma era scomparsa per comprarsi una sottoveste. Quando Butarelle, che era un omaccione sanguigno se ne accorse, lasciò la figlia e si mise a cercarla. La trovò alla fine in uno spogliatoio davanti al quale gli offrivano gentilmente una seggiola. Gli spogliatoi erano stanzini stretti, chiusi da cristalli appannati, e gli uomini non vi potevano entrare, neppure i mariti per un'esagerazione di decenza stabilita dalla direzione. Delle ragazze aprivano e chiudevano alla svelta, lasciando ogni volta intravedere nel rapido moto della porta donne in camicia e in sottana, colli nudi, braccia nude, carni grasse biancastre e carni magre giallo avorio. Una fila d'uomini aspettavano a sedere col viso annoiato, ma Butarelle, quando ebbe capito, era andato su tutte le furie, urlando che voleva la moglie, che voleva sapere che cosa le facevano, che non si doveva spogliare se non c'era lì lui. Cercarono in vano di calmarlo. Pareva che credesse che là dentro si facessero chissà quali cose. La Butarelle dovette venire fuori, mentre la folla discuteva e rideva. Denise poteva allora passare coi fratelli. Tutta la biancheria delle donne, quella che non si vede mai, stava in mostra in una fuga di sale, secondo i reparti. I busti e i corpetti erano in un banco, i busti cuciti, i busti a vita lunga, i busti con le stecche e, principalmente, quelli di seta bianca, guarnita a colori, di cui quel giorno avevano fatto una speciale esposizione. Un esercito di manichini senza testa e senza gambe che mettevano in fila soltanto dorsi e petti da bambole stretti sotto la seta, con una lubricità da sogni di convalescente e, accanto, sopra altri bastoni. Fianchi di crine e di tarlatana avevano su quei manici di scopa profili da caricatura. Ma cominciava poi la vera biancheria, che riempiva le sale come se un popolo di ragazzine si fosse spogliato di reparto in reparto, fino a mostrare nudo il raso della pelle. Qui, gli oggetti minuti, polsini e cravate bianche, fischù e colletti, una varietà infinita di cosette leggere, una spuma bianca che sfuggiva dalle scatole o volava come neve. Là, le camiciole, gli accappatoi, vesti da camera, di tela, di nansuc, trine, lunghi vestiti bianchi liberi e sottili che facevano pensare allo stiracchiarsi delle mattinate oziose dopo una notte d'amore. E cadevano poi, pezzo per pezzo, le sottane bianche di tutte le lunghezze, quelle che si stringono alle ginocchia e quelle a strascico che spazzano il pavimento. Una marea di sottane dove le gambe si affondavano, le mutande di cambri, di tela, di picchè, i mutandoni bianchi nei quali sguazzerebbero i fianchi di un uomo, per ultimo le camice, abbottonate fino al collo per la notte, scollate per il giorno, sorrette soltanto sulle spalle, di semplice cotone, di tela di Irlanda, di tela batista, l'ultimo velo bianco che striscia dal petto sui fianchi frementi. Ai corredi c'era da contentare tutte, la borghesuccia che vuole tele unite, la gran signora involta nelle trine, un'alcova aperta al pubblico che, col suo lusso nascosto di merletti e di ricami, diveniva quasi una depravazione sessuale. La donna si rivestiva, il fiotto candido della biancheria rientrava nel mistero fremente delle sottane, la camicia inamidata, le mutande fredde e, con le pieghe della scatola, tutto quel cambri e tutta quella battista sparsa sui banchi, gettata qua e là, ammucchiata, stavano per vivere della vita della carne, profumate e calde dell'odore dell'amore, una nuvola bianca divenuta sacra e che, col solo far intravedere il lampo rosa di un ginocchio tra i suoi candori, metteva sottosopra il mondo. Veniva poi una stanza per i corredini da neonati, dove il bianco voluttuoso della donna si mutava nel bianco candido del bambino, una innocenza, una gioia. L'amante che si sveglia madre, camiciole di picchè col pelo, cuffiette di flanella, camicie e cappellini piccini come da bambole e vestiti da battesimo, mantelline di cashmere, la peluria bianca della nascita, simile a pioggia sottile di penne bianche. «Sono camicie infilate col nastrino», disse Jeanne, che era dolcemente commosso da tutti quei tessuti morbidi. Quando furono ai corredi, Pauline accorse subito non appena vide Denise e, prima di sentire quel che volesse, le si mise a parlare a voce bassa per le chiacchiere che correvano. Due ragazze si erano perfino litigate lì nel suo reparto, affermando una di sì e l'altra di no riguardo alla partenza di Denise. «Restate, non è vero? Ci scommetto la testa. Come resterei io?» e, sentendosi rispondere che l'amica era invece disposta ad andarsene il giorno dopo, «No, no, voi lo credete, ma io sono sicura del contrario. Dio buono, ora che ho un bambino mi dovete nominare aiuto!» Bouget ci conta e sorrideva, convinta, diede poi le quattro camicie e, avendo detto Jeanne che dovevano andare ai fazzoletti, chiamò anche lei una ragazza per portare il paltoncino e le camicie. La ragazza che si presentò era Mademoiselle de Fontanelle, sposata da poco con Giuseppe. Aveva ottenuto per grazia particolare quel posto di serva ed aveva un gran grembiule nero e, sulla spalla, un numero di lana gialla. «Prendete, signorina!» le disse Pauline, poi, ribassando la voce, «Dunque, ci siamo intese, sono aiuto io!» Denise si difendeva come poteva, poi, per rispondere allo scherzo con uno scherzo, promise, e se ne andò coi fratelli seguiti dalla ragazza. Nel pian terreno si trovarono in mezzo alle lane, un angolo della galleria tappezzato tutto di flanelle bianche. Leonard, che il padre richiamava in vano da Angers, stava discorrendo col bel Mignon, che si era fatto mediatore d'affari e osava sfacciatamente capitare ogni tanto al paradiso. Parlavano certo di Denise perché si zittirono subito e la salutarono ossequiosamente. Così facevano del resto tutti gli impiegati a mano a mano che lei passava, non sapendo che cosa sarebbe stato il giorno dopo. Sussurravano e dicevano che aveva l'aria di trionfo. Le scommesse ripresero e si ricominciò a rischiare su di lei vino d'argentei e fritture. Denise era entrata nella galleria della biancheria per andare ai fazzoletti che erano in fondo. Il bianco continuava, bianco di cotone, di madapolam, di basino, di picchè, di ghinea, bianco di filo di mussolina, di tarlatana. Poi venivano le tele, in enormi pilastri, costruite a forza di pezze alternate come fossero pietre. Teleforti, telefini, di tutte le altezze, bianche o gregge, di lino puro, imbiancate sui prati, e poi ancora altri reparti per ogni sorta di biancheria. Biancheria da casa, biancheria da tavola, biancheria da cucina, lenzuoli, fodere, tovaglioli d'ogni specie, asciugamani, grembiuli e canovacci. I saluti continuavano. Tutti si tiravano da parte al passare di Denise. Bouget era a corso alle tele per sorriderle come alla buona regina del magazzino. Finalmente, dopo le coperte, che riempivano di bianche bandiere un'intera sala, giunse i fazzoletti che, ingegnosamente disposti, facevano stupire la folla. Erano bianche colonne, piramidi bianche, castelli bianchi, tutti di fazzoletti di lino, di batista, di tela di Irlanda, di seta della Cina, con le cifre, coi ricami, con la trina, con gli orli traforati e figure tessute, una vera città di mattoni bianchi, di infinita varietà, intravista in un miraggio su un candido cielo orientale. «Un'altra dozzina?» domandò Denise al fratello. «Come sono?» «Guarda, come questo», rispose Jeanne, mostrando un fazzoletto. Tanto lui che Pepe non le si staccavano dalle gonnelle, stringendosi a lei come quando erano arrivati a Parigi stanchi del viaggio. Quei grandi magazzini dove lei era come in casa sua li turbavano, e le stavano ai fianchi rimettendosi sotto la protezione della loro mammina per un istintivo risveglio della loro infanzia. Tutti li guardavano sorridendo a vedere quei due pezzi di giovanotti andare dietro a quella giovinetta gracile e seria. Jeanne, con tanto di barba, spaurito. E Pepe, sperso nella sua uniforme. Tutti e tre biondi allo stesso modo, d'un biondo che faceva dire, mentre passavano i commessi, «Sono i suoi fratelli! Sono i suoi fratelli!» Ma, mentre Denise cercava una della vendita, accadde uno scontro. Mure e Bourdonc entravano nella galleria. Ed ecco che la desforge e la guibal si trovarono a passare nel momento in cui egli si fermava da capo davanti alla ragazza, senza del resto dirle una parola. Henriette represse il sussulto che la scuoteva. Guardò Mure, guardò Denise. Anche loro l'avevano guardata. E fu quella la fine. La fine comune ai drammi del cuore, un'occhiata scambiata tra gli urti di una folla. Mure s'era già allontanato. Denise si perdeva in fondo al reparto coi suoi fratelli, sempre in cerca di una ragazza libera. Allora Henriette, che aveva riconosciuto la defontenaie, con la cifra gialla sulla spalla e il suo viso grosso e terreo da serva, si sfogò, dicendo con voce tremante alla guiballe, «Guardate! A che ha ridotto quella disgraziata? Non fa rabbia! Una marchesa! E l'obbliga a seguire come un cane le sgualdrine che trova per la strada!» Cercò di calmarsi e aggiunse con una finta aria di indifferenza, «Andiamo un po' a vedere alle sete la loro esposizione». Il reparto delle sete era come una gran camera d'amore, tappezzata di bianco dal capriccio di un'amante bianca come la neve che volesse gareggiare di candore. Tutti i latte e i pallori d'un corpo adorato si trovavano là, dal velluto delle reni sino alla morbida seta delle cosce e al raso splendente del petto. Pendevano dalle colonne velluti, sete e rasi, spiccavano su quel fondo di bianco crema in drappeggiamenti d'un bianco di metallo e di porcellana, e verano anche festoni di sete e fulare in gradazioni dal bianco plumbeo di una bionda di Norvegia al bianco trasparente riscaldato dal sole, d'una rossa d'Italia o di Spagna. Favier stava misurando della stoffa bianca per la bella signora, quella bionda elegante che i commessi chiamavano sempre in quel modo. Da anni veniva al banco, e non sapevano ancora né chi fosse né dove stesse, nessuno del resto cercava di saperlo, per quanto ogni volta, tanto per parlare, ciascuno facesse la sua brava ipotesi. Dimagriva, ingrassava, aveva dormito bene, doveva essere andata la sera a letto tardi, ed ogni fatterello della sua vita ignota, avvenimenti esterni, drammi interni erano così nel magazzino commentati e ricommentati a forza di fantasia. Quel giorno pareva assai allegra, perciò quando Favier tornò dalla cassa dove l'aveva accompagnata, disse le sue riflessioni a Houten. Deve star per riprendere marito. Dunque è vedova? Non lo so, ma vi dovete ricordare che la volta passata era in lutto, a meno che non abbia guadagnato alla borsa. E dopo un poco concluse, già, questo è affar suo. Se si conoscessero tutte le donne che capitano. Houten era soprapensiero. Due giorni prima aveva avuto a che dire con la direzione, si sentiva bello e condannato. Dopo l'esposizione era sicuro di essere mandato via. Da un bel pezzo tentennava. All'ultimo inventario gli avevano rimproverato di non aver raggiunto la somma d'affari data dal preventivo, ma principalmente era spinto fuori da tutti gli altri con la solita guerra nascosta del reparto. Si sentiva il lavoro sotterraneo di Favier, un gran rumore di mascelle come da sottoterra. Favier sapeva già di diventare il capo e Houten, che non ignorava ciò, invece di schiaffeggiarlo lo considerava ora un uomo che ci sa fare, un giovane tanto freddo e che aria obbediente aveva saputo prendere per rovinare Robineau e Putemont. Era sorpreso, non senza un po' di rispetto. A proposito, riprese Favier. «Resta, sapete? Il padrone l'ha fatto certi occhi. Io ci scommetto una bottiglia di champagne», parlava di Denise. Da un banco all'altro le chiacchie respiravano più forti tra la folla, sempre più densa dei clienti. La seta soprattutto era in rivoluzione, perché ci si scommettevano cose care. «Per bacco!» scappò detto Houten, come se si svegliasse da un sogno. «Che bestia sono stato a non andare a letto con lei! Oggi sì che sarai in auge!» Ma orrossì della confessione, vedendo che Favier rideva e aggiunse per rimediare alla meglio che era stata lei che l'aveva rovinato nell'animo del padrone. Preso insieme da un bisogno di violenza, finì con lo scagliarsi contro i commessi dispersi sotto l'assalto dei clienti. Si calmò e si rimise a ridere vedendo la desforge e la guibal che attraversavano ad agio ad agio il reparto. «Ha bisogno di qualcosa la signora?» «No, grazie!» rispose Henriette. «Passeggio! Son venuta soltanto a vedere!» Quando l'ebbe fermata, abbassò la voce. Aveva subito pensato un bel tiro e cominciò ad adolarla e a dir male del magazzino. Ne aveva abbastanza. Preferiva andarsene piuttosto che trovarsi ancora tra quel disordine. Lei lo stava a sentire, tutta contenta, e fu lei che, credendo di fare un dispetto al paradiso, gli offrì di farlo pigliare da Butemont come capo delle sete, non appena il quatre saisons si fosse rimesso su. L'affare fu fatto. Tutti e due sussurravano piano piano mentre la guibal guardava l'esposizione. «Posso offrire alla signora uno di questi mazzolini?» riprese Uten a voce alta, mostrando su una tavola tre o quattro mazzolini che si era fatti dare per regalarli personalmente. «No, no!» esclamò Harriet indietreggiando. «Non voglio essere davvero della festa!» Si intesero e si separarono ridendo da capo, con occhiate di intelligenza. Nel voltarsi, la desforge vide la guibalco Lamarty che, con la sua Valentin, correva da due ore per i magazzini, spendendo a rotta di collo fino a restarne lei stessa sbalordita e spossata. Era stata ai mobili, dove un'esposizione di immobilia di lacca bianca pareva una grande camera da fanciulla, ai nastri e agli sciallini che formavano bianchi colonnati drappeggiati di veli bianchi, alle mercerie disposte in ingegnosi trofei fatti pazientemente a forza di cartine d'aghi e di carte di bottoni. Ma la gente faceva ressa principalmente alle maglie dove il nome del paradiso delle signore era scritto a lettere alte tre metri, fatte di calze bianche su un fondo di calze rosse. Lamarty era eccitata soprattutto dai reparti nuovi. Non potevano aprire un reparto senza che l'inaugurasse, vi si precipitava e comprava ad ogni costo. Aveva passato un'ora intera tra i cappelli da donna messi in una sala nuova del primo piano, facendo vuotare gli armadi, prendendo i cappelli dalle grucce di legno lucido che ornavano due tavole, provandoseli tutti, anche alla figlia, i cappelli bianchi, le cappottine bianche, i berrettini bianchi. Poi era ridiscesa alle scarpe, in fondo ad una galleria del pianterreno. L'avevano aperto quel giorno il reparto ed ella buttò all'aria le vetrine, presa da un desiderio convulso davanti alle pantofole di seta bianca ricamata di cigni, scarpine e stivaletti di raso bianco con tacchi altissimi alla Luigi XV. «Oh!» diceva fuori di sé. «Oh, se vedeste! Hanno un assortimento di cappelli straordinario! ne ho preso uno per me ed uno per Valentin e le scarpe! Che scarpe è, Valentin?» «Da non credere!» aggiunse la ragazza con la sua aria da donna. «Ci sono degli stivaletti da venti franchi e mezzo! Che stivaletti!» Un commesso teneva loro dietro con la solita seggio alla piena zeppa di ogni sorta d'oggetti. «Come sta, Monsieur Marti?» chiese la Desforge. «Un po' meglio, credo», rispose la Marti, turbata da quella improvvisa domanda che cadeva malignamente sulla sua febbre spendareccia. «È sempre laggiù! Lo zio deve essere andato a vederlo stamattina!» Ma si interruppe con un'esclamazione di estasi. «Dio! È una meraviglia!» Le signore avevano fatto qualche passo e si trovavano davanti al nuovo reparto di fiori e penne posto nella galleria di mezzo, tra le sete e i guanti. Sotto la luce viva che pioveva dall'invetriata, fioriva un mazzo enorme alto e largo come una quercia. In fondo, viole, mughetti, giacinti, margherite, tutti i candori delicati delle aiole. Quindi i mazzolini salivano, rose bianche sfumate di carnicino, grosse peonie bianche colorate appena di carminio, crisantemi bianchi, ingetti leggeri, costellati di giallo. E i fiori continuavano a lanciarsi, mistici gigli, rami di melo primaverile, ciuffi di lillà profumato, una fioritura, insomma, che si stendeva ed era sormontata all'altezza del primo piano da pennacchi di penne di struzzo, penne bianche che erano come l'alito soffiato da quel popolo di fiori bianchi. In un canto, guarnizioni e ghirlande di fiori d'arancio, c'erano anche fiori metallici, cardi d'argento, spighe d'argento, tra le foglie e sulle corolle, in mezzo a tutta quella mussolina, sete e velluto sulle quali gocce di gomma raffiguravano le gocce della rugiada, volavano uccelli delle isole per cappelli, i tangara purpurei con la coda nera e i sette colori con le penne cangianti come l'arcobaleno. «Mi compro un ramo di melo!» disse Lamarty. «È stupendo, non è vero! È quell'uccellino! Guarda, Valentin! Oh, me lo compro!» La guibal si annoiava a starsene immobile tra la ressa della folla e disse alla fine «Vi lasciamo comprare in pace, noi andiamo su!» «No, no, aspettami!» esclamò l'altra. «Vengo anch'io! Su c'è la profumeria! Bisogna che ci passi io pure!» Il reparto dei profumi, aperto da poco, era accanto alla sala di lettura. La desforge per schivare la calca delle scale propose di andare in ascensore, ma vi dovettero rinunciare, tanta gente aspettava davanti alla macchina. Finalmente arrivarono e passarono davanti alla stanza dei licuori, dove un ispettore si era dovuto fermare a frenare l'ingordigia dei clienti, non lasciandoli entrare che pochi per volta. Già si sentiva il profumo acuto che si spandeva per la galleria. Tutti volevano un sapone, il sapone paradiso, la specialità del magazzino, nei banchi a vetrine e sulle tavolette di vetro degli scaffali stavano in fila i vasetti delle pomate e delle paste, le scatole delle polveri e dei trucchi, le boccette degli oli e delle acque. In un armadio apposta erano esposti i pettini, le spazzole fini, le forbicine, le boccettine da tasca. I commessi avevano cercato di ornare con quanti vasetti di porcellana bianca avevano e con tutte le boccette di vetro bianco. La meraviglia del reparto era però una fontana d'argento, una pastorella a sedere tra mucchi di fiori e ne zampillava continuamente acqua di violette che nel bacino di metallo risuonava armonicamente. Un profumo squisito si spandeva intorno, le signore vi bagnavano nel passare i loro fazzoletti. «Ecco fatto», disse Lamarty, «quando si fu comprata una bottega intera di acqua e polveri e cosmetici, sono con voi, andiamo a cercare Madame de Boves». Ma sul pianerottolo dello scalone di mezzo, la roba giapponese la fermò di nuovo. Dal giorno che Murese era divertito a far vendere in quel posto stesso dei gingilli da nulla, senza prevedere nemmeno lui l'enorme favore del pubblico, il reparto si era ingrandito. Pochi reparti erano nati così modestamente, ed ora ostentava vecchi bronzi, vecchi avori, vecchie lacche, facendo molte migliaia di franchi d'affari all'anno e frugando tutto l'estremo oriente dove dei viaggiatori correvano apposta per i palazzi e per i templi. Di reparti del resto ne nascevano sempre. Due nuovi erano stati messi in dicembre per nascondere i vuoti fatti dalla stagione morta dell'inverno, libri e balocchi, e l'uno e l'altro erano certo destinati a crescere a dismisura e uccidere altri negozianti del vicinato. In quattro anni il reparto giapponese si era fatta sua tutta la clientela artistica di Parigi. Per quanto la desforge si fosse proposta nel suo rancore di non comprar nulla, quella volta cadde anche lei davanti alla tentazione d'un avorio di squisita fattura. «Mandatemelo a casa», disse svelta svelta, come stizzita della sua debolezza. «90 franchi, non è vero?» E, vedendo la Martì e sua figlia assorte nella scelta di certe porcellane da poco prezzo, disse loro, portando via con sé la Ghibal, «Ci ritroveremo nella sala di lettura, sono stanca morta, mi voglio mettere un po' a sedere». Ma nella sala da lettura non trovarono un assaggio la vuota. Intorno alla tavola, coperta di giornali, degli uomini stavano a leggere, con la pancia in fuori, senza avere la cortesia di far loro posto. Delle donne scrivevano col viso sul foglio, come per nasconderlo sotto i fiori dei loro cappelli. La debove non c'era e Derriette perdeva già la pazienza quando videva la gnoche che cercava anche lui la moglie e la vicocera. Salutò e disse alla fine «Devono essere alle trine, non sanno mai staccarsene, vado a vedere». Ma prima di andare ebbe la gentilezza di procurare loro due seggiole. Alle trine la folla cresceva ogni minuto. La grande esposizione del bianco vi trionfava nei candori più delicati e costosi. Era la tentazione acuta, la foglia del desiderio e le donne mai vi resistevano. Il reparto si vedeva trasformato in una cappella bianca. Veli e trine cadendo dall'alto facevano un cielo bianco, uno di quei veli di nuvole che con la loro rete sottile tolgono la forza e la fiamma dei raggi al sole del mattino. Intorno alle colonne scendevano gale di Maligny e Valenciennes, come bianche gonnelle di ballerine, cadute in un fremito bianco fino in terra. Poi, da tutte le parti, su tutti i banchi, il bianco veniva giù a fiocchi. Trine spagnole leggere come un soffio, le applicazioni di Bruxelles, quei loro fiori aperti sulle maglie fini, i punti ad ago e i merletti di Venezia, quei loro disegni più pesanti, le trine di Alençon e quelle di Bruges, d'una ricchezza regale quasi religiosa. Pareva che il dio della moda avesse qui il suo bianco tabernacolo. La Deboe, intanto, dopo aver a lungo passeggiato con la figlia, ronzando intorno alle mostre col bisogno sensuale di ficcare le mani tra le stoffe, si era alla fine fatta mostrare dei merletti d'Alençon da Deloche. Da principio, egli le aveva messo innanzi delle imitazioni, ma lei volle il vero Alençon e non si contentava delle guarnizioni da 300 franchi il metro, ma esigeva le trine da mille, i fazzoletti e i ventagli da 7 e 800. Dopo poco, il banco era coperto da un intero tesoro. In un angolo del reparto, Jouvet, che non aveva mai perduto di vista la Deboeve, per quanto esse, in apparenza, non facesse che girare per divertimento, stava immobile tra le spinte con l'aria indifferente, ma sempre con gli occhi addosso a lei. «E fiocchi di trina buona ce li avete?» domandò la contessa Deloche. «Fatemili vedere!» Il commesso, tenuto fermo da lei da 20 minuti, non osava resistere, tanto ella aveva apparenza e voce da principessa. Con tutto ciò, esitò un poco. Perché i commessi raccomandavano sempre di non ammontichiare così sul banco le trine importanti. E anche la settimana prima si era lasciato rubare dieci metri di maligno. Ma lei gli dava soggezione e cedette lasciando per un istante le trine d'Alençon per prendere da uno scaffale che era alle sue spalle i fiocchi. «Guarda un po', mamma!» diceva Blanche che frugava accanto a lei una scatola piena di Valenciennes da poco. «Per i guanciali si potrebbero prendere queste!» La Deboeve non rispondeva. Allora la figlia, voltandosi, vide la mamma che, con le mani tuffate nelle trine, cercava di fare sparire nella manica del suo mantello delle trine d'Alençon. Non sembrò sorpresa e si mise davanti per nasconderla in un moto istintivo. Quando Giovea, un tratto, fu tra loro due e, chinandosi, mormorò all'orecchio della contessa con voce cortese «Preggo la signora di seguirmi!» Ella per un momento si ribellò. «Perché?» «Preggo la signora di seguirmi!» ripete l'ispettore senza alzar la voce. Col viso stravolto d'angoscia, lei diede una rapida occhiata intorno. Poi si rassignò e riprese il suo fare da grandama, camminando accanto all'ispettore come una signora che si degna di affidarsi ad un aiutante di campo. Nessuno si era accorto di nulla. Deloche, tornato davanti al banco con i fiocchi in mano, la guardava portare via a bocca aperta. «Come? Anche lei! Quella signora tanto nobile!» Bisognava frugarle allora tutte ad una ad una. E Blanche, lasciata libera, seguiva da lontano la mamma, in mezzo alla gente, livida, combattuta tra il dovere di non abbandonarla e il terrore d'essere presa anche lei. La vide entrare nello studio di Bourdoncle e si contentò di stare giù di lì. Si era allora appena liberato, era per l'appunto nella sua stanza. Di solito toccava a lui dar sentenza su quei furti commessi da persone per bene. Da parecchio tempo, Jové gli aveva parlato dei suoi sospetti sulla Debove e perciò non fu affatto meravigliato quando l'ispettore gli disse la cosa. Del resto gliene passavano tanti di casi strani davanti che credeva alle donne capaci di tutto, quando sonprese dalla pazzia della moda. Sapendo che il direttore conosceva la signora fu con lei garbatissimo. Signora, noi scusiamo questi momenti di debolezza, ma ve ne supplico, pensate un po' dove una tale dimenticanza di voi stessa vi potrebbe condurre. Se vi avesse visto qualcun altro prendere letrine e... Ma lei l'interruppe indignata. Lei una ladra. Per chi la pigliavano? Era la contessa Debove. Suo marito era ispettore generale degli stalloni. Andava a corte. Lo so, lo so, signora. Rispondeva con tutta pace Bordoncle. Ho l'onore di conoscervi, ma cominciate ad avere la bontà di tirar fuori le trine che avete addosso. Lei ricominciò a gridare, senza lasciargli dire una parola, bella nella sua furia, osando perfino piangere come una gran signora oltraggiata. Chiunque altro sarebbe stato commosso e avrebbe temuto uno sbaglio deplorevole, perché lei lo minacciava perfino di rivolgersi ai tribunali per vendicarsi di tanta ingiuria. Pensate a quel che fate! Mio marito andrà anche dal ministro! Via, via! Siete come le altre, disse alla fine Bordoncle, non sapendosi più frenare. Lo volete? Vi frugheranno! Lei non si scosse. Anzi, come si cura di sé, rispose superbamente. Sta bene, frugatemi, ma ve l'avverto, correte un gran rischio. Jouvet andò a cercare due ragazze. Quando tornò, avvertì Bordoncle che la figlia di quella signora non si muoveva dalla soglia e gli chiese se doveva pigliare anche lei per quanto non le avesse visto prendere nulla. Ma Bordoncle, per usare tutti i riguardi, disse che non era il caso di farle entrare, il nome della morale, per non costringere sua madre ad arrossire di fronte alla figlia. I due uomini se ne andarono intanto in una stanza vicina, mentre le ragazze frugavano la contessa e le levavano perfino il vestito per guardarle nel petto e nei fianchi. Oltre alle trine d'Alençon, dodici metri da mille franchi l'uno, nascosti in fondo a una manica, le trovarono in seno, caldi e compressi, un fazzoletto, un ventaglio, una cravatta, in tutto un quattordicimila franchi di trine. Da un anno la Debove rubava così, spinta da un bisogno furioso e irresistibile. Il male si faceva sempre più acuto, fino a divenire una volutà necessaria nella sua vita, disperdendo tutti i ragionamenti della prudenza, appagando la sua smagna con un godimento tanto più acre, in quanto metteva a rischio sotto gli occhi di tutti il suo nome, il suo orgoglio, l'alto posto del marito. Ora che il marito le lasciava votare le sue cassette, lei rubava con le tasche piene di denaro, rubava per rubare, come si ama per amare, frustata dal desiderio, nella convulsione dei nervi, che la cupidigia del lusso mai soddisfatta aveva citato in lei tra l'enorme e brutale tentazione dei grandi magazzini. «È un tranello!» esclamò lei quando Bordoncle e Juve tornarono. «Mi hanno messo addosso le trine, lo giuro davanti a Dio!» piangeva lacrime di rabbia, caduta su una seggiola, sentendosi soffocare nel vestito marri abbottonato. Bordoncle mandò via le ragazze, e poi pacatamente «Noi vogliamo, signora, insabbiare la cosa per riguardo alla vostra famiglia. Ma adesso dovete firmare un foglio che dica così. Ho rubato delle trine al paradiso delle signore, coi particolari delle trine e la data. Del resto vi renderò questo foglio non appena mi porterete duemila franchi per i poveri». Si era alzata e, ribellandosi da capo, esclamò «Non firmerò mai un foglio così! Piuttosto morire!» «Non morirete, signora! Ma vi avverto che mandò a chiamare il commissario di polizia!» Ci fu allora una scena da far male a vederla. Lei gli lanciava insolenza e balbettava che era una vigliaccheria a tormentare così una donna. La sua bellezza da giunone, il suo bel corpo maestoso trasaliva in una furia da pescivendola. Poi volle tentare la commozione e cominciò a supplicare tutti e due in nome delle loro madri, parlando perfino di trascinarsi ai loro piedi. Ma vedendo che restavano freddi, ormai abituati a tali scene, si mise di colpo a sedere e scrisse con mano febbrile. La penna scricchiolava. Le parole «Ho rubato!» Calcate rabbiosamente quasi sfondarono la carta e ripeteva intanto con strozzata voce in gola «Ecco, signore! Ecco qui, signore! Cedo alla forza!» Bourdoncle prese il foglio, lo ripiegò con gran cura e lo chiusi in un cassetto dicendo «Vedete che non è solo, perché le signore, dopo aver detto di voler morire piuttosto che firmare, di solito si scordano poi di venire a riprendere questi dolci bigliettini. Insomma, è qui a vostra disposizione, penserete voi se vale duemila franchi». Lei aveva smesso di riaccomandarsi e ora che aveva pagato ripigliava tutta la sua arroganza. «Posso andare?» domandò alla fine seccamente. Bourdoncle si occupava già di un altro affare. Dopo il rapporto di Jouvet mandava via Deloche, quello stupido che si lasciava sempre derubare e non si poneva alle clienti. La Debove ripete la domanda e, vedendosi congedata con un gesto, lanciò a tutti e due un'occhiata velenosa. Voleva dire chissà quante cose, ma non trovò lì per lì che un grido da melodramma «Miserabili!» disse uscendo. Blanche intanto non si era allontanata dallo studio, non sapendo quel che accadeva là dentro, vedendo andare via e venire Jouvet e le ragazze. Era sconvolta e vedeva già i gendarmi, la corte d'assise, la prigione. Ma restò a bocca aperta quando si vide davanti Vallagnosch quel suo marito da appena un mese che la turbava ancora col darle del tu. Meravigliato dal suo stupore, lui si mise a interrogarla «Dov'è la mamma? Vi siete perse? Via, rispondimi! Non mi far paura!» Non le riuscì nemmeno ad inventare una bugia, un po' a modo e nel suo smarrimento gli sussurrò tutto. «La mamma, la mamma ha rubato!» «Come?» «Rubato!» Alla fine capì. Il viso livido della moglie lo spaventava. «Delle trine, qui nella manica!» seguitava lei balbettando. «E tu l'hai vista? La stavi a guardare!» mormorò sentendosi gelare il sangue nel vederla complice. Ma si dovettero calmare. Già qualcuno si voltava. Un'esitazione piena d'angoscia tenne Vallagnosci immobile per un istante. Che fare? E stava per entrare da Bourdoncle quando vide Mouret che attraversava la galleria. Disse alla moglie ad aspettarlo e, afferrato il braccio del suo vecchio compagno di scuola, lo mise al corrente con poche parole tronche. Mouret si affrettò a condurlo nel suo studio, dove lo tranquillizzò su quel che poteva accadere, assicurandolo che non c'era bisogno che lui intervenisse e spiegandogli come le cose di sicuro dovevano andare, senza mostrarsi sorpreso da quel furto, come se l'avesse previsto da gran tempo. Ma Vallagnosci, quando non ebbe più da temere un arresto lì su due piedi, non accettò il caso con quella tranquillità. Si era gettato su una poltrona. E ora che poteva ragionare, cominciò a lamentarsi per conto proprio. Era mai possibile. Eccolo dunque entrato in una casa di ladre. Bel matrimonio che aveva fatto per compiacere il padre. Mouret, meravigliato di quello sfogo da bambino malato, lo stava a guardare ricordandosi come fino allora si era atteggiato a pessimista. Non gli aveva sentito ripetere mille volte che la vita è nulla. E che soltanto il male ha in sé un po' di piacere. Così, tanto per distrarlo, si divertì per un momento a predicargli l'indifferenza, scherzando da amico. Ma Vallagnosci andò sulle furie, che gli importava della sua filosofia. Tutta la sua educazione borghese tornava galla in oneste invettive contro la suocera. Non appena egli era toccato dall'esperienza, non appena le umane miserie lo sfioravano, quelle miserie di cui lui sogghignava, lo scettico vantatore si accasciava e sanguinava. Era una vergogna trascinare così nel fango l'onore della famiglia. Pareva che dovesse cascare il mondo. «Calmati! Calmati!» concluse Mouret un po' commosso. «Non ti dirò più che tutto accade e nulla accade, perché in questo momento pare non ti consoli. Ma credo che tu dovresti andare ad offrire il braccio a Madame Debove. Decisione abbastanza più savia che fare uno scandalo. Che diavolo! Tu che avevi la calma del disprezzo davanti alla furfanteria universale!» «Lo credo io!» esclamò ingenuamente Vallagnosci. «Quando queste cose accadono agli altri!» Si era alzato e fece come gli aveva consigliato l'amico. Tornavano appunto tutti e due nella galleria quando la Debove uscì dallo studio di Bourdoncle. Lei accettò con maestà il braccio del genero e Mouret, nel farle un saluto cortesemente rispettoso, la sentì che diceva «Gli ho costretti ben io ad accoggersi dell'errore. Davvero sono cose spaventose, non dovrebbero accadere!» Blanche li aveva raggiunti e stava dietro loro. Sparirono lentamente nella folla. Allora Mouret, solo e pensieroso, fece un altro giro per i magazzini. Quella scena l'aveva distratto dal combattimento da cui era lacerato. Aumentava ora la sua febbre e lo costringeva alla suprema battaglia. Il suo pensiero correva da una cosa all'altra. Il furto di quella disgraziata, quell'ultima pazzia della clientela conquistata, domata ai piedi del tentatore, evocava l'immagine altera e vendicatrice di Denise, di cui si sentiva sulla gola il calcagno vittorioso. Si fermò in cima alla scala di mezzo e guardò l'immensa navata dove si accalcava il suo popolo di donne. Stavano per suonare le sei. Il giorno che tramontava si ritirava dalle gallerie già buie, impallidiva in fondo alle sale invase lentamente dalle tenebre. E in quel chiarore, non ancora del tutto spento, si accendevano ad una ad una le lampade elettriche che, coi loro globi di opaco candore, costellavano come lune le profondità lontane dei reparti. Era una luce bianca, fissa, abbacinante, diffusa con il riflesso di un astro scolorito e che uccideva il crepuscolo. Poi, quando furono accese tutte, la folla ebbe un mormorio d'ammirazione perché la grande esposizione del bianco prendeva uno splendore magico di apoteosi sotto quella nuova luce. Parve che tutto quel bianco ardesse anch'esso e si facesse luce. Il cantico del bianco saliva nel candore infiammato di un'aurora. Dalle tele e dai cotoni della galleria Monsigny sorgeva un candido chiarore simile alla striscia luminosa che per prima, dalla parte d'Oriente, rischiara il cielo e, lungo la galleria Michaudière, la merceria e i nastri, gli oggetti di Parigi e i passamani gettavano riflessi di lontani declivi, il lampo bianco dei bottoni di madreperla, dei bronzi inargentati e delle perle. Ma la navata di mezzo cantava più delle altre il bianco acceso. Gli sbuffi della mussolina bianca intorno alle colonne, i picchè bianchi che ammantellavano le scale, le coperte bianche ondeggianti come bandiere, le trine e i merletti che volavano per l'aria aprivano un firmamento da sogno, lasciavano intravedere un paradiso dove si celebrassero le nozze dell'ignota regina. Il reparto delle sete ne era quasi l'alcovo immensa, con le sue tente bianche, i suoi veli bianchi che con loro splendore coprivano dagli sguardi la candida nudità della sposa. Era un accecamento, un bianco di luce nel quale tutti i bianchi si perdevano, un pulviscolo di stelle fioccante bianco nel bianco chiarore. E Mouret continuava a guardare il suo popolo di donne tra quei fiammeggiamenti. Le ombre nere spiccavano sifondi pallidi, la folla cominciava a incamminarsi verso le uscite, la febbre di quella grande giornata di vendita passava come una vertigine, smuovendo la marea disordinata delle teste. Le stoffe, come messe a sacco, erano sparse per i reparti. L'oro tintinnava nelle casse, la clientela, spogliata, quasi violata, se ne andava spossata, con la volutà sfogata e la sorda vergogna di un desiderio appagato in fondo a una casaccia. Così egli le aveva fatte sue, così le teneva in sua potestà col continuo a mucchiare merci, con l'abbassare i prezzi, con le rese, con la sua cortesia, con la sua pubblicità. Aveva conquistato perfino le madri e regnava su tutte con la brutalità di un despota che col suo capriccio buttava all'aria le famiglie. Aveva creato. E ne era nata una nuova religione. Alle chiese fatte a poco a poco deserte dalla fede venuta meno, egli aveva sostituito il suo bazar, che non doveva mai essere vinto. La donna veniva a passare nel suo magazzino le ore in cui non sapeva che fare, le ore frementi e inquiete che prima passava in fondo alle cappelle, ed era il necessario sfogo della passione nervosa, la battaglia rinascente di un dio contro il marito, il culto di continuo rinnovato del corpo con la divina metafisica della bellezza. Se avesse chiuso il magazzino ci sarebbe stata una rivoluzione, il grido spaurito delle devote cui fosse tolto il confessionale e l'altare. Nel loro lusso, che da dieci anni si faceva sempre più grande, le vedeva, per quanto già fosse tardi, correre ancora su e giù per le scale per i ponti. La Marti e la figlia, in cima, vagavano tra i mobili. La Bourdelet, trattenuta dai bambini, non si poteva più staccare dagli oggetti di Parigi. Poi veniva una schiera, la De Boves sempre a braccetto di Valagnoche, e con dietro Blanche si fermava ad ogni reparto osando guardare ancora le merci con la sua aria superba. Ma tra tutta quella gente, in quel mare di donne ardenti di moto e di desiderio, fiorite di mazzolini di viole come per le nozze di una regina festeggiata dal popolo, non distinse più alla fine che la desforge, che si era fermata ai guanti con la ghiballa. Per quanto odiasse, essa pure comprava, e Mouret si sentì ancora una volta dominatore. In quello splendore della luce elettrica, egli le teneva ai suoi piedi come un bestiame da cui avesse tratto la sua ricchezza. Sopra pensiero, si mise a percorrere le gallerie, tanto assorto che non si accorgeva delle spinte della folla. Quando alzò gli occhi, era nel nuovo reparto dei cappelli, che dava sulla rue du dis de sambre, appoggiò la fronte ai cristalli, e si mise a guardare l'uscita. Il sole, che stava per nascondersi, tingeva di giallo la cima delle case. Il cielo azzurro di quella bella giornata imbruniva, rinfrescato da un alito puro di vento. Nel crepuscolo che già copriva la strada, le lampade elettriche del paradiso delle signore gettavano quel raggio che hanno le stelle accese all'orizzonte quando il giorno declina. Verso l'operà e la borsa si stendeva la triplice fila delle carrozze, raggiunte dall'ombra, e i cui finimenti conservavano i riflessi della luce viva. Il chiarore di una lanterna, lo scintillio di un morso d'argento. Ogni minuto un garzone in livrea chiamava, e una carrozza si faceva avanti, vi montava su la signora e se ne andava rapidamente. Le file diminuivano sempre. Sei vetture alla volta correvano via occupando la strada intera tra gli sportelli spattuti, lo schiocco delle fruste, il sussurro dei pedoni che si versavano tra le ruote. La clientela usciva e si sparpagliava per la città votando i magazzini con rumore di una cateratta. E i tetti del paradiso, le grandi lettere d'oro delle insegne, le bandiere sventolanti su in cima, fiammeggiavano ancora nei riflessi del tramonto, facendone la luce che veniva di traverso rivivere il mostro degli annunzi, il falnastero che sempre più si stendeva e divorava i quartieri fino ai boschi lontani dei dintorni. E l'anima di Parigi, un soffio enorme e dolce, s'addormentava nella serenità della sera, correva in lunghe molli carezze sulle ultime vetture, per la via a poco a poco libera dalla folla e già coperta dal buio della notte. Mouret, con gli occhi smarriti, aveva sentito passare in sé qualcosa di grande, e in quel fremito di trionfo che lo scuoteva, dinanzi a Parigi divorata e alla donna conquistata, sentì un'improvvisa debolezza. Sentì che la volontà gli veniva meno. Si sentì vinto da una forza maggiore della sua. Era un bisogno irragionevole di essere vinto nella sua vittoria, il controsenso di un gran capitano che, dopo la conquista, si piega sotto il capriccio di una fanciulla. Si era dibattuto per dei mesi. Anche quella mattina aveva giurato a sé stesso di soffocare la sua passione, ed ora cedeva un tratto, preso dalla vertigine dell'altezza e tutto contento di fare quel che lui credeva una sciocchezza. Da un momento all'altro la sua risoluzione prese tal forza che non vedeva altro che lei utile e necessaria al mondo. La sera, dopo l'ultima tavolata, si mise ad aspettare nel suo studio. Commosso come un giovane che sta per sapere se sarà o no felice, non poteva star fermo. Tornava di continuo sulla porta per ascoltare i rumori dei magazzini dove i commessi, sommersi fino alle spalle nel disordine della vendita, riordinavano la roba. Ad ogni suono di passi gli batteva il cuore e si precipitò fuori di sé quando sentì un rumore che a mano a mano si avvicinava. Era l'homme che veniva ad agio ad agio con l'incasso. Quel giorno era tanto pesante, a forza di rame ed argento che si era dovuto far accompagnare da due carzoni. Giuseppe e un altro li tenevano infatti dietro curvi sotto due sacchi, buttati sulle spalle come pieni di gesso. Lui veniva avanti coi biglietti e l'oro, un portafoglio pieno di carta e due sacchetti sospesi al collo che lo tiravano a destra dalla parte del moncherino. Ad agio ad agio, ansando e sudando, veniva di fondo ai magazzini in mezzo all'emozione sempre maggiore degli impiegati. Quelli dei guanti e delle sete si offrirono, ridendo, di levargli un po' di peso. Quelli delle stoffe e delle lane gli augurarono di cascare per terra e seminare l'oro per il reparto. Poi dovette salire una scala, traversare un ponte, salire ancora, sempre seguito dagli occhi dei commessi della biancheria, della merceria, delle maglie, che stavano a bocca aperta a guardare tanta ricchezza viaggiante per aria. Al primo piano, quelli dell'abbigliamento, dei profumi, delle trine, si erano tirati da parte come davanti al Santissimo. Il rumore cresceva e diveniva il clamore d'un popolo che saluta il vitello d'oro. Mouret, in vano, aveva aperto la porta. L'homme comparve. Quei due garzoni che non ne potevano più e, senza fiato, ebbe ancora la forza di annunciare un milione, duecentoquarantasette franchi e novantacinque centesimi. Era finalmente un milione. Il milione fatto tutto in un giorno, che Mouret aveva da tanto tempo sognato. Ebbe invece un gesto di collera e, con l'impazienza d'uno che, mentre aspetta e disturbato da un importuno, disse soltanto «Un milione! Ebbene, mettetelo lì!» L'homme sapeva che gli piaceva vedere così sullo scrittoio i grossi incassi prima che fossero deposti alla cassa centrale. Il milione coprì lo scrittoio, schiacciò i mucchi dei fogli, mancò poco che non rovesciasse il calamaio e l'oro, l'argento e il rame facevano un monte di denaro, caldo ancora e vivente quale usciva dalle mani dei clienti. Mentre il cassiere, scontento dell'indifferenza del padrone, se ne andava, entrò a Bordoncle, esclamando allegramente «L'abbiamo preso, eh? L'abbiamo fatto il milione!» Ma si accorse che Mure era febbrilmente sopra pensiero, capì e si calmò. Gli occhi li brillavano dalla contentezza. Dopo un po' riprese «Vi siete deciso, non è vero? Dio mio, fate bene!» Mure gli si piantò a un tratto di fronte e, con la sua voce terribile dei giorni di furia «Siete un po' troppo allegro, sapete? Ah, voi mi credete belle morte sotterrato e mettete fuori i denti! State ben attento! Non sono di quelli che si fanno mangiare, io!» Bordoncle, smarrito dall'improvviso assalto di quell'accidente d'uomo che indovinava tutto, non sepe far altro che balbettare «Ma come? Scherzate! Io che vi ammiro così tanto! Non dite bugie!» riprese Mure, anche più forte. «State a sentire! Eravamo due stupidi a credere che il matrimonio ci dovesse mandare in rovina! Invece il matrimonio è la salute! La forza è l'ordine della vita! Dunque, caro mio, la sposo! Già, la sposo! E vi mando via tutti, se vi muovete un tantino! Già, sicuro, anche voi mando via, caro Bordoncle!» E con un gesto lo mandò fuori. Bordoncle si sentì vinto e tolto di mezzo da quella vittoria della donna. Se ne andò e, vedendo mentre usciva Denise, le fece un saluto profondo, non sapendo più che succedeva. «Finalmente siete voi!» disse Mure con dolcezza. Denise era pallida dall'emozione. Aveva avuto un ultimo dolore, sapendo da Deloche che lo cacciavano. Non era valso che lei si fosse offerta di parlare per lui. Il giovane si era ostinato a dire che era un disgraziato e che voleva andarsene. Perché restare? Non avrebbe fatto altro che dar noia a chi era felice. Denise, commossa fino al pianto, gli aveva detto addio come un fratello. Anche lei che altro desiderava fuori che l'oblio. Era ormai finito tutto. Non chiedeva alle sue forze spostate altro che il coraggio della separazione. Fra pochi minuti, se fosse stata così forte da spezzarsi il cuore, avrebbe potuto andarsene sola sola a piangere in pace. «Mi volevate vedere», disse con la sua aria calma. «Ma sarei venuta anche da me a ringraziarvi di tutta la bontà che avete avuto». Nell'entrare aveva visto il milione sul banco, e tutto quel denaro così in mostra le dava fastidio. Sopra di lei, come a guardare la scena, il ritratto della Edouane, nella sua cornice dorata, continuava a sorridere. «Ve ne volete dunque andare a ogni costo?» domandò Mouret, e gli tremava la voce. «Non posso farne a meno». Allora lui le prese le mani, e con immenso affetto, traboccante dalla lunga freddezza che si era imposta, le disse «E se vi sposassi, Denise, ve ne andreste». Ma lei aveva tirato a sé le mani, e si dibatteva come sotto l'impeto d'un gran dolore. «Messimure, per carità, non dite così! Non mi fate penare ancora! Non posso! Lo sa Dio se me ne andava apposta per impedire questa disgrazia!» Eseguitava difendersi, con parole interrotte. Non aveva sofferto abbastanza delle chiacchiere di tutto il magazzino. La voleva far passare agli occhi degli altri e anche ai suoi propri per una poco di buono. No, no, lei l'avrebbe trattenuto dal far quella pazzia. Se la sentiva la forza. Mure, che non ne poteva più, la stava sentire ripetendo con passione «Voglio! Voglio! Voglio! No, è impossibile! E i miei fratelli ho giurato di non prendere marito! Non posso mica portarvi due ragazzi! Saranno fratelli anche miei! Dite di sì, Denise! No! No, lasciatemi in pace! Soffro troppo!» A poco a poco, egli si sentiva svenire. Quell'ultimo rifiuto li faceva dar di volta al cervello. «Come? Anche ora», diceva di no. Sentiva lontano il rumore dei suoi tremila impiegati che rimestavano la sua ricchezza piena ai mani. E quello stupido milione era lì. Ne soffriva come fosse un sarcasmo. L'avrebbe buttato dalla finestra. «Andatevene pure», disse rompendo in uno scoppio di pianto. «Andate da colui che amate, è giusto! Me l'avevate detto voi, e io lo dovevo sapere non darvi più noia!» Lei era rimasta atterrita dalla violenza della sua disperazione. Il cuore le si spezzava. Allora, come una bambina, gli si slanciò, al collo, si inghiozzando anche lei e balbettando «Oh, messie amore, io non voglio bene che a voi!» Un ultimo rumore salì dal paradiso delle signore, come la lontana acclamazione di una moltitudine. Il ritratto dell'Edouen seguitava a sorridere. Mouret era caduto a sedere sul banco tra il milione che non vedeva nemmeno più. Si stringeva al petto Denise con tutta la forza, dicendole che se ne poteva andare ora, sarebbe stato un mese a Valogne, così nessuno avrebbe più detto niente, e sarebbe poi andato lui in persona a prenderla, per riportarla al suo braccio, padrone e signora. Grazie. 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 Grazie.